Mauro Menzietti non solo nelle piazze ma anche all'interno dei centri per aggregazione per anziani, ecco ormai la prevenzione è fondamentale, lo sappiamo, ma si entra proprio a contatto con queste persone. E sì, è proprio il concetto di comune audio protetto, c'è un comune che grazie alla sinergia di tutte le forze in gioco cerca di garantire il benessere uditivo ai propri cittadini. Una straordinaria sensibilità del comune di Francavilla che mette a disposizione gli spazi affinché i nostri specialisti, in particolare il dottor Carlo De Luca, si mette a disposizione appunto dei cittadini per rispondere a delle domande, per fare valutazioni, anche controlli dell'udito e visite così in modo da poter inquadrare quello che è un problema sociale troppo spesso trascurato e che invece noi con la nostra battaglia culturale ormai che va avanti da 15 anni portiamo non solo più nelle piazze d'Italia ma anche in tanti centri anziani. Voglio ringraziare innanzitutto l'assessore alle politiche sociali Laila Di Giulio, ci abbiamo creduto da subito appena c'è stata proposta perché credo che sia un tema da diffondere nell'ambito sociale. Il buon udito è un elemento essenziale per la socializzazione delle persone, anche che vanno avanti con l'età, quindi abbiamo voluto sensibilizzare le persone su questo tema. L'abbiamo visto ultimamente col Covid, con le mascherine, abbiamo avuto un'impennata di persone che venivano a controllarsi l'udito dicendo che non sentivano, ma non è che non sentivano, è che queste persone dall'età matura, anziana più o meno, hanno un lieve deficit dell'udito. Questo lieve deficit porta a una difficoltà della comprensione verbale se non si riesce a guardare l'interlocutore, cioè le labbra. Con le mascherine non si sono rese conto che non guardando le labbra non capivano bene il parlato. E sono tutte persone che avrebbero bisogno di una protesizzazione. A che età? Ah, non c'è età. Dipende dall'udito. Quindi può essere a 40, 50, 60 anni. Prima si mette più il cervello è plastico per capire come fare ad adattarsi alla protesi, perché la percezione del parlato è diversa dal naturale, è leggermente un po' più metallica, ma più è precoce la protesizzazione, più il cervello si adatta e più diventa naturale ascoltare con l'apparecchio acustico.